Quelli non erano i miei veri genitori. Sono queste le parole che Salvatore Sedita, 34 anni, avrebbe pronunciato davanti agli inquirenti. Poi avrebbe aggiunto di vedere fantasmi, strane presenze e di fare uso di droga, in particolare crack. Durante l'interrogatorio che si è svolto nella notte nella caserma dei Carabinieri di Racalmuto, in provincia di Agrigento, Salvatore Sedita, 34 anni, ha confessato di essere stato lui a uccidere i genitori Giuseppe Sedita e Rosa Sardo. Il pubblico ministero, Gloria Andreoli e il procuratore capo facente funzioni, Salvatore Vella, che stanno coordinando l'inchiesta sviluppata sul campo dei Carabinieri, sul duplice omicidio di Viale Rosario Livatina a Racalmuto, hanno quindi disposto il fermo indiziato di delitto per pericolo di fuga. Il 34enne, nel pomeriggio di ieri, quando è stato raggiunto telefonicamente dalla sorella che aveva trovato i cadaveri, avrebbe subito ammesso il delitto. Così è stato bloccato mentre camminava a piedi per le vie del centro di Racalmuto, a un chilometro dal luogo del delitto, l'appartamento degli alloggi popolari di Viale Rosario Livatino. L'uomo è stato portato in caserma dove era in corso l'interrogatorio della sorella che aveva ritrovato i cadaveri di Giuseppe Sedita e Rosa Sardo. La procura nella notte ha avviato nei confronti del giovane che avrebbe pronunciato frasi prive di logica una serie di riscontri e accertamenti di carattere psichiatrico. Salvatore Sedita è stato trasferito in carcere e il capo dell'ufficio PM, Salvatore Vella, e il sostituto Gloria Andreoli nelle prossime ore chiederanno al GIP la convalida del fermo di indiziato di delitto. Sul luogo del delitto, intanto, è intervenuto il reparto speciale del rischio di Messina che dovrà effettuare nuovi accertamenti. Non è chiaro, infatti, quando sia stato consumato il duplice omicidio.